...di maggior prestigio del match, replicando alla sua maniera, in un esaltante duello a distanza, le genialità di Proasca. E così al ventitresimo, su una sua conclusione, Scirea siglava il raddoppio, giocando a biliardo prima con la traversa e poi con il palo. Finalmente, alla mezz'ora, Bersellini decideva di sostituire almeno una delle due punte, meglio tardi che mai.